Mi dispiace essere arrivato col buio in questo luogo ma stavo parlando con Deborah, la persona più gentile del giorno, oggi ci siamo inventati questa categoria e questa è Plaza Torre del Vigia o del Vigia, non so, dovrebbe essere Vigia, questa è la torre dei Vici Lanza, bella, non c'è nessuno, le uniche macchine che sono passate in questi 5-6 minuti erano queste qui che sono passate adesso, sempre ammaldonato ovviamente, sta arrivando un'altra macchina.